Con Furio Valcareggi iniziamo parlando del campionato in particolare del Napoli tu che conosci molto bene Mazzari sei stato suo procuratore da giocatore ti aspettavi visto che lui è un grande motivatore questa resa di questo genere in Europa League? No, onestamente no, la resa Mazzari non è cosa che lo riguarda a rendersi è un ambizioso, smodatamente ambizioso, capace, motivatore perché lui cosa c'ha di più bravo degli altri? che dai suoi giocatori sempre riesce ad avere il 95-98% del valore della presenza ecco perché c'è questa continuità questo non sbaglia una stagione da quando ha iniziato da Bologna a Primavera, a Cireale, Pistoia, Livorno, Sampdoria, Regina e ora Napoli non me l'aspettavo, è stata una debacle, ci sta, ci sta ma è colpa dei giocatori, lui ci ha messo tutto del suo certo che è fortemente iniziato a uscire questo non è bello perché a Napoli c'è polemiche, te lo do per certo che Napoli e i napoletani sanno che Mazzari lascerà e ti do una notizia mia, un uccellino mi ha detto che va o al Milan o all'Inter più Inter perché Stramaccioni pare si cominci ad essere abbastanza solo all'Inter e Mazzari è il più indicato di tutti ad andare, perché è il più bravo insieme a Montella, insieme a Conte, sono gli allenatori dal successo sicuro, una grandissima squadra e quindi Napoli avrà un finale di campionato molto in imbarazzo perché Mazzari è contestato là, perché tutti sanno che lui lascerà il Napoli non è comunque sbagliato mollare così l'Europa League? Ma sai, la volontà di lasciarla non c'era, purtroppo hanno sbagliato clamorosamente la partita hanno preso tre goli in casa, che onestamente nessuno avrebbe mai pronosticato questa squadra, Pils, come si chiama, Pils, mai sentita e quindi è stato un pronostico che ha sorpreso un pochino tutti perché nessuno avrebbe mai pensato che Napoli potesse prendere tre goli in casa da questa squadra quindi è un episodio, è un episodio, però c'è molta tensione a Napoli perché appunto tutta Napoli sa che Mazzari è all'ultimo a fine campionato lascia sicuramente o va da un'altra parte oppure addirittura si ferma Parlando invece del Milan, ti aspettavi che Balotelli potesse essere così decisivo per la rincorsa verso il terzo posto? Bene, te sei grande e buon testimone, io ho avuto due passioni da dieci anni a questa parte una è Cassano e l'altra è Balotelli quindi a me Balotelli non impressiona il successo di Balotelli è molto per me annunciato ed era sicuramente un giocatore di questo livello lui, il Saravi e il Niang sono tre eccellenze però il Milan ha problemi a metà campo, in difesa il terzino no è bravo, quel giovane lì è bravo, Decelli è bravo però di Balotelli e di El Saravi e di Niang non avevo nessun dubbio e Balotelli è un campione, non solo perché ha fatto quattro gol in cinque partite quello che è, ma è veramente un fuori classe assoluto il Milan è una società di ragazzi molto seri e tu sai che il contagio esiste cioè vivere uno spogliatoio serio, vivere con Ambrosini vivere con, chi ti devo dire, Abbiati vivere con questi giocatori qua ti migliora la vita che non ti perdonano niente e ti incoraggiano a fare bene quindi c'è un bel esempio nel Milan di persone per bene e vedrai che migliorerà anche lui perché il tempo passa e il tempo che passa non toglie niente al talento e lo migliora come carattere Sei d'accordo con Berlusconi quando dice che Montolivo è il nuovo Pirlo? Silvio, Silvio è il numero uno no, non è, non c'entra niente sono due buoni giocatori che devono giocare insieme ma l'uno non c'entra niente con l'altro perché quello che fa Montolivo non lo fa Pirlo e viceversa quindi Pirlo è, danno tutti colpa alla Fiorentina che non ha fatto la gabbia su Pirlo Pirlo ragazzi, io faccio cronaca in questo senso non do il giudizio, ma Pirlo è un campionato e mezzo che è il migliore in campo si vede che le gabbie finora hanno funzionato poco è un anno e mezzo che è il migliore in campo Pirlo e tutti hanno sbagliato gabbia sa che lui ha le gabbie e riesce a deluderle a disinnescarle, a venirne fuori è sempre il migliore in campo questo ragazzo quindi non c'è gabbia che tenga però i due non sono assimilabili sono compatibili ma sono diversi come giocatori uno è un ragionatore, un riflessivo che sta davanti alla difesa e l'altro è una mezzala l'altro intendo Montolivo è un classico otto che fa il campo 50 volte con tantissima qualità ma è un tuttofare è più lavoratore Montolivo l'altro è più specifico è più solista è un primario l'altro è un primario e un altro è un comprimario di grande validità ma non sono uguali come giocatori assolutamente no